Il Museo dell'Emigrazione, situato a Ferrazzano nel Palazzo Chiarulli, ricorda la tragedia di Mononga, dove morirono molti minatori provenienti dalla nostra regione. Vediamo il servizio. Il 6 dicembre del 1907 a Mononga, nella Virginia occidentale, avvenne quella che è stata la più grave e disastrosa tragedia mineraria della storia. Molti furono i minatori provenienti dalla nostra terra che persero la vita ed è per questo che il Comitato dei Molisani nel mondo ha voluto ricordare, attraverso il Museo dell'Emigrazione di Palazzo Chiarulli a Ferrazzano, non solo quanti morirono nel disastro, ma anche la cultura dell'accoglienza e la vicinanza tra i popoli. Abbiamo tenuto il museo aperto già da sette anni, poi la pandemia ci ha sconvolti, ha sconvolto tutti. L'occasione è il 6 dicembre, che è la giornata dei Molisani nel mondo, in ricordo di un evento in fausto, dove una miniera negli Stati Uniti d'America, Mononga, esplode e muoiono migliaia di persone. Tra queste persone la comunità più grande era quella italiana e tra quella italiana quella molisana. Ed è una storia, diciamo, che ha una tragedia enorme, immane, perché è rimasta ancora la strage più grande dei minatori. Marsinel, che noi ancora oggi fortunatamente lo ricordiamo, è una piccola parte dei morti procurati lì a Mononga. E quindi la Regione Molise ha fatto una legge regionale al ricordo di questo evento, è per riabbracciare i molisani nel mondo, ma l'evento più straordinario è che l'anno 21, il governo italiano precedente, questo attuale lo ha riconfermato, ha indetto l'anno del ritorno, del turismo di ritorno delle radici. Vale a dire, è un anno che è dedicato agli italiani nel mondo. E io sto riallestendo, insieme a tanti amici, collaboratori, ragazzi del servizio civile, il Museo dell'Emigrazione qui a Ferrazzano, che poi potrà diventare, sicuramente lo sarà, il punto di riferimento centrale per organizzare l'accoglienza.